Il costo dell'auto pesa sulle famiglie. In Italia, tra manutenzione, assicurazione, parcheggi, petaggi autostradali, un'automobile di media cilindrata costa a chi la possiede oltre 4.500 euro l'anno, spesa che ha un'incidenza sul reddito medio netto delle famiglie italiane tra il 12 e il 25%, a seconda che si possegga una o più auto. È quanto emerge dal libro bianco sulla mobilità e trasporti dell'Eurispes. A questi costi diretti, poi, bisogna aggiungere quelli sociali rappresentati dagli incidenti stradali, dagli effetti delle emissioni inquinanti e dall'inquinamento acustico. 750 euro l'anno per ogni cittadino europeo. Calcolando tutto questo, il trasporto privato costa ad una famiglia media italiana 17 volte in più rispetto a quello pubblico. Senza il trasporto privato sarebbe possibile un risparmio di 11 miliardi. Confrontando il costo sostenuto per la motorizzazione privata con quello per i consumi alimentari, che si assesta poco sopra il 19%, si può sintetizzare che per ogni 3 euro che la famiglia italiana spende per l'alimentazione, ben due vengono consumati per il trasporto privato.